Nella serata di mercoledì i poliziotti della squadra investigativa di Barletta hanno tratto in arresto due coniugi barlettani accusati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di armi. Per gli stessi reati è stata denunciata in stato di libertà anche una terza persona. La coppia solitamente stazionava nei pressi del castello svevo di Barletta fingendo di vendere bibite a bordo di un'ape 50 ma con lo scopo di prendere contatti con giovani assuntori di droga. Nella serata di mercoledì i due sono stati individuati a bordo di due potenti bici elettriche nel centro cittadino e per evitare i controlli hanno tentato di darsi alla fuga ma prima l'uomo e poi la donna sono stati bloccati. Con l'ausilio delle unità cinofile gli agenti hanno effettuato un'attenta perquisizione all'interno dell'abitazione dei coniugi ed hanno rinvenuto e sequestrato tre bilancini di precisione ed una scatola in plastica al cui interno erano custoditi nove cipolloni ognuno dei quali contenenti 15 dosi di cocaina di altissima qualità. Rinvenuta, sequestrata ed affidata al personale della polizia scientifica anche una pistola semiautomatica con sei cartucce e matricola a brasa. I coniugi sono stati tratti in arresto e condotti presso il carcere di Trani mentre la terza persona scoperta all'interno dell'abitazione durante il blitz di polizia è stata denunciata.